Signori, buongiorno. E come sempre, biellese, territorio straordinario e su questo siamo supportati da tutte le persone che, venendo a vedere il nostro biellese, restano ammagliati, qui comprano casa facendo un investimento eccezionale e poi vivono il biellese, diventano biellesi. Ma partiamo da una cosa. Uno dirà, ma come? Biellese è territorio straordinario e questo parte con la morte. Ma perché voglio partire da questa cosa oggi? Perché, vedete, Coco Chanel, a circa 80 anni della sua vita, scrisse una cosa bellissima. Di tutto quello che ho fatto non mi pento di nulla, mentre mi pento di tutto quello che non ho fatto. E allora la domanda è questa. Ma tu hai vissuto o sei sopravvissuto? Sapete perché vi dico questo e vi faccio questa domanda? Perché ho 61 anni, vado per 62. In questi giorni trovo un cliente che anni fa, forse 30 anni fa, doveva comprare da me una casa. Poi ha voluto rimanere in quella zona di comfort, la famosa zona di comfort. E in questi giorni mi dice sono pentito perché io avessi comperato quella casa, avrei fatto un regalo enorme a mia moglie, avrei donato ai miei figli una casa da poter abitare, ho avuto paura, mi sono fermato e ho perso un'occasione che ad oggi poteva essere casa mia. Quindi, signori, il live motive di questo video che cos'è? E' che quel letto ci attende tutti e lì ci arriveremo. Ma noi dobbiamo creare, siamo fatti per creare, siamo degli esseri di luce e dobbiamo creare, creare emozioni, creare delle situazioni piacevoli per la nostra famiglia. Non ci dobbiamo fermare nella zona di comfort. Allora il barazzetto è la Beverly Hills della nostra città, è la prima collina, la casa di cui vi voglio parlare oggi, che vedrete una casa d'epoca fantastica, gode della vista che vedete voi in questo momento. E questa è la casa, è una casa enorme, poi adesso vedremo i vani, è una casa che è nata nel 1920, ha un parco spettacolare e da in casa vedete il mondo. Partiamo subito dal prezzo, la vendiamo per soli 290.000 euro e poi possiamo anche considerare eventuali proposte. Ma andiamo a vedere, sicuramente chi non è di Biella dirà, beh, per 290.000 euro una villa d'epoca, si vede che la casa è distrutta. Benissimo, fermatevi un attimo, andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. È una villa indipendente, come vi dicevo, che posa su circa 1500 metri di proprietà. Vedete il fronte, adesso avete visto la parte retrostante, questo è il giardino che abbiamo sul fronte e come vedete in questa parte qua della foto, gode di una vista che è incredibile sulla nostra città. È stata riportata agli antichi splendori. Con questo cosa voglio dirvi? Ammettiamo subito che la casa ha bisogno di opere di ripristino per la facciata, il resto è tutto nuovo. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Villa Florio nasce nel 1920, pochi anni fa è stata completamente restaurata. Adesso andremo a vedere il restauro, cosa comprendi, impianti, serramenti, tutto. Quello che vedete è il salone della casa. Questa è la sala da pranzo, dove vedete abbiamo un caminetto a pellet, poi vi dirò delle fonti di riscaldamento di questa casa. Tutti i serramenti perimetrali sono stati sostituiti, hanno ripreso i vetri cattedrali originali e sono stati riposizionati sui suoi serramenti che sono nuovi, sono serramenti con vetrate a camera a basso emissivo, con gli scuri interni originali e le vetrate a camera. Le porte interne mentre sono state riprese tutte sono le sue. Sul piano d'arrivo, sul piano terreno abbiamo il salone, la sala da pranzo, la cucina che vedete, una dispensa e un locale a disimpegno. Andiamo a vedere Villa Florio cosa ci propone. Abbiamo due camere da letto che non sono matrimoniali, sono praticamente dei mini appartamenti, più due camere matrimoniali, più un bovindo e tutto è stato riportato veramente agli antichi splendori. Vedete i pavimenti a terra? Sono pavimenti in larice d'america, pavimenti che hanno uno spessore di due centimetri e mezzo inchiodati sui magatelli, che sono stati recuperati tutti e riportati a nuovo. Proseguiamo, andiamo a vedere altre cose, altre particolarità. Questo è il bovindo della casa, quindi è la quinta camera da letto, da cui avete una vista che è sul mondo, poi vedrete. La casa attualmente ha tre bagni, tutti e tre i bagni sono stati rifatti, come vedete, a nuovo. In più ci sono altri due bagni da poter recuperare. La casa è composta di un ingresso, del salone, della sala da pranzo, la cucina, ha una dispensa, quattro camere da letto, un bovindo, ci sono tre bagni, è completamente soffittata e cantinata. Proseguiamo, andiamo a vedere questa meraviglia. La soffitta, signori, la vedete? Calcolate che anche in soffitta hanno cambiato tutti i serramenti e tutti gli impianti sono arrivati a filo solette in maniera che se volete creare un'ulteriore estensione o una mansarda o una unità indipendente avete già tutti gli attacchi che arrivano in soffitta. Inoltre la casa è completamente cantinata e adesso vi farò anche vedere parti delle cantine, quella che vedete qui è una tavernetta. La casa ha una caldaia a condensazione nuova, inoltre abbiamo bollitore dell'acqua calda che viene alimentato sia dalla caldaia che dal camino che abbiamo visto nella sala da pranzo, in più abbiamo varie stufe e cammini, quindi a tre impianti di riscaldamento. Questo è un particolare dei serramenti perimetrali dove vedete sono state ricollocate le vetrate cattedrali e tutti gli scuri interni. Proseguiamo e andiamo a vedere, guardate la vista, questa è la vista che avete da in casa. Particolari per chi ha occhi per vedere della parte interna della casa di chi ha costruito nel 1920 questa dimora, questo è l'ingresso e questo è il camino che calcolate che con questo camino che funziona a pelle potete riscaldare completamente tutta la casa. Inoltre tutto l'impianto di riscaldamento è computerizzato ed è gestibile da remoto per cui con un telefonino da qualunque parte voi potete impostare la temperatura che volete in ogni camera e da remoto accendere e spegnere il vostro impianto di riscaldamento. Abbiamo tre fonti di riscaldamento come vi dicevo, il riscaldamento che è a metano a gas con questa caldaia di ultima generazione a condensazione, un impianto di riscaldamento a pelle e in più abbiamo delle stufe a legna. Proseguiamo, andiamo a vedere gli spazi esterni di questa casa. Guardate il parco riccamente piantumato, è un parco in cui non dovete fare nulla. Questa mattina abbiamo fatto un atto di vendita di una villa nuova e poi ci siamo fermati un attimino a parlare con chi ha comparato, mi diceva adesso devo piantumare tutto il giardino, ho chiesto dei preventivi e dei giardinieri, certo che la spesa è importante, qui calcolate con 290 mila euro avete una casa che supera i 500 metri quadrati e il giardino al di là della potatura non ha bisogno assolutamente di nulla. Gli spazi esterni poi sono molto importanti, ha degli spazi che sono ricchi, ha dei deore esterni con dei ciottolati in pietra a terra, ha degli angolini questa casa dove avete l'assoluta privacy, ci starebbe anche una bella piscina, è veramente un oggetto molto particolare e quello che è importantissimo signori è che siamo in categoria catastale a 7 per cui rientriamo prima di tutto sulla normativa della prima casa e adesso vediamo che con i vari bonus che si stanno mettendo di nuovo in atto anche la facciata ha un costo minimo per essere ripresa. Calcolate signori che se facciamo un mutuo su questo bene possiamo mutuare, qui ho sbagliato il 90%, calcoliamo l'80% perché vedo che adesso con le banche con cui lavoriamo lavoriamo l'80%, quindi su 290 mila euro possiamo avere 230 mila euro di mutuo, il tasso indicizzato oggi è di circa il 3%, in 25 anni vuol dire che avete una rata mese di 1090 euro e un apporto personale vostro di 60 mila euro, quindi voi signori con 60 mila euro venite a vivere nel biellese, comperate una villa d'epoca del 1920 che è una casa che ha una storia particolare, poi vi racconterò sul posto e cambiate vita e vi togliete da quella zona di comfort e siete in una zona che è spettacolare. Questi signori sono parte del nostro staff, noi ci occupiamo abbiamo dall'avvocato, il commercialista, da chi fa in mutuo e lo studio tecnico, dall'assicuratore, l'architetto, abbiamo costruttori per cui avete i vostri professionisti bene, arrivate da fuori, i nostri professionisti sono a vostra completa disposizione. Inoltre abbiamo selezionato innumerevoli artigiani in tutti questi anni per cui qualunque cosa di cui avete bisogno vi possiamo far fare diversi preventivi, poi voi sceglierete con chi lavorare. Se non sei di biella ti devi fermare un attimo, fermati abbiamo finito, ma tu devi vedere biella, andate a vedere, voi dovete mettervi in google e vedere se quanto vi dico corrisponde a verità o no. Biella, il biellese è un paradiso eccezionale e abbiamo delle meraviglie che sono uniche in questa bellissima Italia, al di là delle nostre Alpi, ma voi andate a vedere il santuario mariano d'Europa, andate a vedere, gogolate ragazzi, andate a vedere il ricetto di Candelo che è un borgo fortificato dell'anno 1000, il lago di Viverone, le camminate nelle nostre montagne, come diciamo sempre, voi venite a vivere nel biellese e siete in ferie per 365 giorni all'anno, andate a vedere il comune di Rosazza che è stato definito la Rennes le Chateau italiana o il parco naturale della Vesse, gogolate, andate a vedere, andate a vedere le vie ferrate che abbiamo nel biellese, qualche cosa di straordinario, non per nulla abbiamo creato una community che si chiama biellese territorio straordinario, ma perdetevi anche già solo nelle immagini, andate a vedere che cos'è il parco naturale della Baraggia, uno dei parchi più belli d'Italia e qui dico sempre se non è il più bello che il parco della Burcina, l'Oasi Zegna signori, la via ferrata dell'Infernone che è una via che suggerisco sempre ai nostri clienti di fare con i loro bambini perché è molto facile, è sicura e siete immersi nella natura, fate un giro dei castelli del biellese, dovete perdervi nel biellese e poi con la bicicletta guardate dove potete andare a pedalare, non nei marciapiedi delle vostre grandi città fumose, guardate dove pedalate con la vostra bicicletta, signori prendete in considerazione il biellese che è un territorio straordinario perché nel biellese noi abbiamo i prezzi più bassi d'Italia e non è che siamo in quelle zone industriali un po' bruttine, un po' fumose, calde d'estate, gelide d'inverno, no, voi comprate in uno dei posti che è tra i più belli in assoluto di questa bellissima Italia. Se non ci conoscete signori ci trovate su tutti questi canali come Abita Bielle Agenzia Immobiliare, come Silvio Zupichiatti, come biellese territorio straordinario che è la nostra community oppure come studio associato Moving Real Estate. Inoltre sul nostro sito che è tutto dedicato al mondo dei video, lì potrete vedere i video con la storia di ogni casa. Questo sito a breve diventerà un blog dove notai, avvocati, imprenditori potranno andare a scrivere e mettere notizie sia sul settore immobiliare che sul nostro bel biellese. Io che vi sto parlando, se non mi conoscete sappiate che faccio questo lavoro da 37 anni e i dieci anni prima lavoravo in cantiere con mio padre. Ci ho scritto un libro che è questo, che è il diario di un uomo libero, come comprare case e vivere di rendita. Se volete ve lo mandiamo gratuitamente in via telematica. Vi dico questo perché vedo tante volte presentazioni, ragazzi, senza nulla togliere perché chapeau, hanno voglia di fare di 20, 30 anni, che si inventano, io ho 61 anni, è tutta la vita che faccio questo lavoro ed è tutta la vita che ci metto la faccia. Signori, il biellese, il biellese, avete visto una villa così in qualunque nella periferia di Milano, sul lago di Comuna, si parla di milioni. Qui oggi stiamo parlando di una proprietà che è un gioiello per soli 290 mila euro dove molto probabilmente abbiamo anche margine di trattativa. Il biellese, signori, è un territorio straordinario e oggi vi abbiamo proposto Villa Florio che potete portare a casa, tra virgolette, con soli 60 mila euro. Lascia un like se questa presentazione ti è piaciuta, iscriviti al nostro canale. Per chi invece abita nel biellese e ha una casa che è parcheggiata lì, in questi periodi abbiamo venduto molte ville d'epoca, in realtà ci rimane come villa d'epoca, questa che vi abbiamo presentato adesso, che è l'ultima entrata, le ville che vedete le abbiamo vendute tutte perché c'è molta richiesta da parte della nostra clientela che è veramente selezionata e che arriva da fuori per comprare delle ville e una fetta di storia del biellese. Per cui se hai una villa che vuoi vendere, telefonaci, ti spieghiamo come stiamo lavorando e dove stanno arrivando i nostri video, le ville che vedi in questo momento sono state vendute tutte e siamo alla ricerca di ville d'epoca. Quindi se è una villa d'epoca non esitare a telefonarci, il nostro intervento è completamente gratuito, veniamo, valutiamo la casa e vediamo come metterla in vendita in un mercato che oramai copre tutta l'Italia e buona parte dell'Europa. Ve l'ho detto più volte, in questi mesi abbiamo venduto nel biellese una casa a dei signori che arrivano dalla Polonia perché i nostri video sono arrivati in Polonia, sono venuti e hanno comperato case a case code. Quindi signori lasciate un like se questa presentazione vi è piaciuta. Vorrei lasciarvi con qualche cosa che vi deve stimolare a togliervi dalla zona di comfort. Vedete questa donna in vita sua ha veramente fatto di tutto e se oggi ti potesse parlare cos'è che ti direbbe? Io penso che ti direbbe che sei un essere di luce e che puoi creare, fai grande la tua vita, non attendere perché tanto lì ci arriveremo tutti, ma tu nel mentre puoi creare e ricordati Coco Chanel alla fine della sua grande vita di tutto il suo fare disse di tutto quello che ho fatto non mi pento di nulla, mentre mi pento di tutto quello che non ho fatto. E tu com'è che sei vissuto? O sei sopravvissuto? Oggi puoi fare un investimento nel biellese che cambierà la tua vita e sapere che puoi creare, che puoi creare emozioni per la tua famiglia e soprattutto fare un investimento che è straordinario e che non temerà il tempo. Signori per biellese territorio straordinario, noi di abita sempre in movimento, non attendere quel letto che ci aspetta tutti nel mentre tu crea.